Il sorriso sul volto, la gentilezza nonostante la sua posizione di persona educata, la determinazione tipica del marchigiano che non si tira indietro di fronte agli ostacoli. Questo in estrema sintesi Vittorio Merloni, che dopo anni di malattia che lo avevano costretto a ritirarsi, è morto nella sua Fabriano. Aveva compiuto 83 anni lo scorso 30 aprile. Era figlio di Aristide, fondatore dell'Industria Merloni. Dopo la laurea in Economia e Commercio a Perugia, Vittorio Merloni aveva sposato Franca Carloni, dalla quale ha avuto quattro figli, Maria Paola, Andrea Antonella e Aristide. Fino alla fine la sua famiglia, come vuole quel modello marchigiano che ha sempre sostenuto, gli è rimasta accanto. La sua carriera di imprenditore era iniziata negli anni 60, quando aveva cominciato a lavorare nell'azienda di famiglia. Dopo la divisione del gruppo, in accordo con i fratelli, a lui rimasero gli elettrodomestici. Fondò la Merloni elettrodomestici, poi Indesit & Company, divenendo del Presidente, ricoprendo la carica ininterrottamente fino al 29 aprile 2010, data in cui, proprio per l'acuirsi della malattia, ha lasciato la presidenza al figlio Andrea per assumere la carica di Presidente onorario. Per quattro anni, dal 1980, è stato anche Presidente nazionale di Confindustria. Fin qui le note riassunte ai minimi termini di una vita ricca di successi, che non avevano però cambiato di una virgola la sua marchigianità. Marchigiano è nato, vissuto, purtroppo deceduto con la sua città, che già da queste ore appare sconvolta. Non vogliamo essere elettorici, a Vittorio Merloni uomo pratico e prammatico non sarebbe piaciuto, ma proprio oggi Fabriano aspetta il nuovo vescovo. Come a dire, guai a fermarsi, il cambiamento è inevitabile, bisogna comunque andare avanti.